La sezione configurazione offre la possibilità di inserire i dati che vengono visualizzati nelle liste a discesa nelle altre sezioni dell'applicativo. Si può scegliere la lingua in cui si desidera usare l'applicativo e dal pulsante configura dizionario si può anche cambiare i termini in uso dell'applicativo, in modo che meglio si adattino alle proprie esigenze. La pagina principale della sezione contiene schede e pulsanti. Nelle schede situate in alto si possono inserire domande e valutazioni relativi ai portieri, informazioni necessarie per comporre esercizi ed allenamenti, valutazioni, situazioni e interventi delle partite, tipo e modalità dei gol. Dai pulsanti posti sul lato sinistro invece si accede alla configurazione di preparatori, stagioni, gruppi di lavoro, competizioni, squadre, categorie e rilevatori autori. Sono presenti anche i pulsanti di modifica password, licenza, importazione esercizi, importazione ed esportazione del database e in ultimo reset dei dati.